Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video! Come state? Io tutto bene? Allora, l'ultimo video risale a tipo una settimana fa e non ho ancora pubblicato, cioè la settimana scorsa non ho pubblicato perché purtroppo non sono riuscita a trovare il tempo per registrare o comunque quando io avevo tempo non avevo l'ispirazione per registrare quindi non mi andava di fare un video tanto per farlo uscire Come avete letto dal titolo, oggi sono qua per registrare un video sui preferiti del periodo che non saranno i preferiti del mese, sono due cose diverse i preferiti del periodo sono semplicemente delle canzoni, delle serie tv, dei capi d'abbigliamento che mi piacciono nell'ultimo periodo, vi lascio al video Partiamo con le canzoni del periodo Non ce ne sono state tante, devo dirvi la video Comunque, ascolto principalmente gli inediti dei cantati di Amici Dovete sapere che quest'anno ho un'ossessione verso questo programma e quindi ascolto Rossofuoco di Mida Ascolto Che fai di Petit Ascolto Mercoledì Mai di Mew Follia di Lil Ciudillo mi piace tantissimo però se mi capita l'ascolto Fammi di Matthew Poi ascolto Dimmi che non è un addio di Holden Sono anche altre canzoni oltre gli inediti di Amici e in realtà non sono tantissime, sono semplicemente le canzoni reggaeton Poi, film e serie tv del periodo Dovete sapere che non ho guardato né film né serie tv Allora, ho iniziato una serie tv su Mediaset che si chiama E Scandalo È in spagnolo, la guardo in spagnolo Perché c'è anche in italiano Ma in spagnolo, visto che capisco la lingua Comunque è meglio perché è più reale la cosa Ma dove sapere che ho smesso di guardarla Perché non mi faceva impazzire Però per il resto, se proprio la vogliamo considerare una serie tv Guardo The Time di Amici Quello non me ne lascia scappare uno Ogni giorno io sono lì a vedere The Time di Amici Perché io sono innamorata della coppia Mew e Matthew E quindi non posso abbandonarli E non posso neanche abbandonare amici in sé Quindi, scusatemela Make up del periodo Quindi prodotti make up del periodo Non ho comprato grandi cose L'unica cosa che ho comprato, nuova diciamo Comunque di make up che sto comunque usando Infatti si vede anche in questo video È il mascara blu Difatti vi dicevo, forse non so se si vede in questo video Comunque ho messo il mascara blu È di Kiko Questo qua È buono Nel senso che, vabbè, ovviamente non fa le ciglia lunghe come quello di Maybelline Il Lush Sensational, mi sembra, si chiami Comunque questo qua E nulla di che vi dico È un mascara bello Perché comunque è blu Quindi non è sempre il solito mascara nero Un po' basic Profumo del periodo Questi due qua Non so scegliere sinceramente tra uno e l'altro Perché li uso Li uso veramente tutte e due Questo qua Allora, principalmente per andare a scuola Perché per uscire sono abituata a usare questo Semplicemente E questo qua È buono Ma ovviamente Cioè, allora Io ho un problema con i profumi Se io stessa non sento il mio stesso profumo Per me non profumo Lo sto tenendo da buono E, insomma Un profumo che non costa poco Ecco, quindi lo tengo da conto Così come questo Infatti questo qua Mi sta durando anche più del previsto Sinceramente Ah, questo qua È Devotion di Dolce & Gabbana Accessori del periodo E, allora Onestamente Non so cosa dirvi Cioè, nel senso che Ne ho veramente tanti Ho questi orecchini qua Che se avete visto il video Dei miei regali dei 18 anni Sapete quali sono Perché ho fatto vedere tutti i miei regali Questi qua I primi Blu Ho Questo bracciale qua Sempre dei miei 18 anni E, soprattutto Ho questa collana qua Questa Non so se si riesce a vedere Ok Ah, la C di Chiara Non so di che brand è Però la sto tenendo sempre Anche quando vado a Kik La tolgo Poi subito la rimetto Perché comunque È veramente importante Ed è molto carina Se la vogliamo dire tutta Accessori Ce ne sono anche altri Perché c'è Quest Ci sono queste due borse qua Queste qua Questa di Pinco E questa qua Di Love Moschino Molto belle Che ho già messo Tutte e due per uscire Una l'ho messa al sabato L'altra l'ho messa alla domenica Capi d'abbigliamento Del periodo Ora Ultimamente sto usando Davvero tanto Questa felpa qua Che Mi ricordo di aver fatto vedere Nel video La mia vacanza La igueglia Me lo ricordo Ve l'ho fatta vedere Sicuro Perché ho parlato Del gelo che c'era in treno Quindi Mi ricordo È semplicissima Che momentaneamente È bianca qua Non so perché È pulita Però va bene Che ha il cappuccio Ecco È di pile Infatti la uso anche perché È veramente molto calda È anche solo con una magliettina Leggerissima sotto È perfetta Tipo stamattina c'era meno uno Ma non avevo freddo Con questa e la giacca E ovviamente la maglietta sotto Allora La uso perché Principalmente la uso Il giorno dopo Che io mi sono lavata I capelli Perché Dovete sapere che Con l'umidità O comunque Con la nebbia I miei capelli Gonfiano tantissimo Diventano crespi Si gonfiano Quindi praticamente La piastra che io faccio È totalmente inutile Metto il cappuccio Così i capelli Rimangono perfetti Fin quando arrivo a scuola In realtà C'è anche un altro capo Che sto usando Spessissimo E mai mi sarei aspettata Di usarlo così tanto Che sono questi jeans Questi Sono jeans Semplicissimi Color denim Color jeans Così Gamba dritta Presi da H&M Gli ho pagati Tipo 40 euro Quindi Ci ho lasciato gli un rene Perché per me Sicuramente Pagare 40 euro Per un paio di jeans È follia pure Vivrei con questi jeans Letteralmente Unghie del periodo Mi dispiace deludervi Non ne ho fatte Infatti Le mie unghie sono queste Però Ho preso l'appuntamento Per il 13 dicembre Quindi Perfetto Per Natale ce li ho Infatti l'obiettivo Starebbe farle crescere Acquisto del mese Vi ripeto Quei jeans lì Assolutamente Quei jeans lì E Basta In realtà Non c'è nient'altro Perché non ho comprato Nient'altro Proprio onestamente Ho preso Ah no Ho preso anche Questo maglione qua Che ho indosso adesso E un paio di jeans Ho preso un paio di jeans neri Che però magari vi metterò la foto Perché li ho messi via adesso Sono un po' larghi in vita Però vanno perfetti davvero Poi 9,99 euro E un paio di jeans Ho detto Prendiamoli subito E poi questo maglione qua Che è fatto così Semplicissimo Con un po' Questi strappi qua Che è molto caldo Pagato 19,99 euro Il video finisce qua Spero di avervi fatto vedere tutto Spero di averlo reso Un po' interessante Ecco Non vedevo l'ora Di mettermi qua A registrare di nuovo Perché comunque Una settimana È stata una settimana Abbastanza pesante Io spero Questo video vi sia piaciuto Iscrivetevi al mio canale Se non l'avete ancora fatto Mi raccomando Vi mando un bacio E noi ci vediamo prestissimo Con un nuovo video Prestissimo Spero Però ci vedremo sicuramente Con un nuovo video Vi mando un bacio E ci vediamo presto Ciao